Buona domenica, quinta domenica del tempo ordinario amiche e amici e siamo sempre in ascolto del maestro che è seduto, ha iniziato il suo primo grande discorso, nel Vangelo di Matteo ci sono questi grandi discorsi che non a caso sono cinque, come i libri della Torah, i rotoli della Torah, il Pentateuco, cinque libri, cinque rotoli, e il primo grande discorso, il discorso della montagna, abbiamo ascoltato la solenne overture domenica scorsa, cioè il testo delle beatitudini, e subito dopo le beatitudini appunto ci sono questi pochi versetti che sono molto 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 conosciuti, li conosciamo fin troppo bene, come sempre i testi che conosciamo fin troppo bene li diamo per scontati, voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore con che cosa lo si renderà salato, voi siete la luce del mondo, non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone rendano gloria al padre vostro che è nei cieli. Ci prendiamo due parole e andiamo a rovistare, andiamo a curiosare cosa c'è dietro a queste due parole. Innanzitutto Gesù dice, Gesù dice, non ci dice dovete essere il sale della terra, dovete essere, no, lo siete già. Gesù ci ricorda ciò che noi siamo. A noi invece viene spesso spontaneo pensare a quello che non siamo, ciò che non siamo, a ciò che ci manca, al difetto, mentre invece Gesù dice, no, voi siete, ricordatevi che siete, non sottovalutatevi, non siate poveri di autostima, voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo. Il sapore e la bellezza, il sale e la luce, immagini semplici e bellissime. Allora, rovistiamo su due parole, ma se il sale perde il sapore, c'è la possibilità, è vero, che il sale perda il sapore, è un'assurdità. Tanto quanto è assurdo che gli esseri umani diventino privi di sapienza, privi di senso. È assurdo che la vita umana, la vita di quell'essere che è così dotato di profondità, di coscienza, di arte, di fantasia, di ingegno, di intelletto, di sensibilità, cioè che l'essere umano perda tutto questo. Non ha senso, tanto quanto non ha senso che il sale diventi senza sale. È un assurdità, no? Però è interessante quel perdere il sapore, cioè diventare insipido. Nel verbo greco, nel testo più antico che abbiamo a disposizione, c'è dentro la parola moros, che significa pazzo, stupido, sciocco, stolto, matto, andare fuori di testa, insomma. Il sale che diventa stupido, sciocco. C'è chiaramente anche dal punto di vista semantico un collegamento tra il sale, la sapienza, il sapere, il sapore, no? Cos'è che dà sapore alla nostra esistenza se non proprio l'essere sapidi, l'essere sapienti, il non essere insipienti, il fare in modo che la nostra vita non diventi qualcosa di stupido, di folle, di impazzito, di vuoto. E dall'altra parte c'è invece un'altra parola, così risplenda la vostra luce, perché vedano le vostre opere buone. In realtà nel testo greco è scritto cala erga, opere belle. Quindi da una parte c'è la stupidità, dall'altra la bellezza. Da una parte c'è appunto il vuoto, il non senso, dall'altra c'è la bellezza, le opere belle che devono essere viste, perché la bellezza è fatta apposta per essere vista la bellezza. Non la si può tenere nascosta la bellezza, no? E in cosa consiste questa bellezza che sarebbe l'antidoto alla stupidità, al non senso? Leggiamole in contrapposizione queste parole. Da un lato Gesù dice non è possibile che la vostra vita diventi qualcosa di stupido, no. La vostra vita deve essere un susseguirsi di opere belle, che devono essere viste. Non bisogna nascondersi, non bisogna nascondere la bellezza che noi possiamo esprimere con la nostra vita. Cos'è questa luce? Cos'è questa bellezza? Beh, pochi versetti prima Gesù ci ha fatto capire che cosa non è la bellezza. Quando lui dice beati i perseguitati per la giustizia, e poi continua, insiste con questo verbo, no? Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, ecco. Allora se la beatitudine è l'essere vittima di tutto questo, certamente non saranno mai beati, non saranno mai felici coloro che insultano, perseguitano, dicono il falso, dicono il male, tutto il male possibile. Questa non è bellezza, questa non è luce. Gesù nelle beatitudini ci ha indicato cos'è la vera bellezza? Essere affamati di giustizia, essere puri di cuore, essere mitici e non violenti, essere operatori di pace, creatori di pace, costruttori di pace, essere poveri di spirito, cioè avere quell'umiltà tipica di chi non si considera il padre eterno e non vive di deliri di onnipotenza, quel delirio che poi ti porta a schiacciare gli altri, ecco. Chiediamo aiuto anche alla prima lettura che ascolteremo appunto in questa domenica, che stiamo ascoltando, che abbiamo ascoltato, che ascolteremo. Isaia capitolo 58, sentite quanto le due letture si possono collegare in questa domenica. Isaia sta contestando il digiuno falso, è un digiuno che è fatto da uomini religiosi che però digiunano da una parte per far piacere a Dio e dall'altra rubano, imbrogliano, trattano male il prossimo, specialmente i miseri, i poveri. Non consiste forse il digiuno che voglio, non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti. Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, non sarai sofferente. Le tue ferite si rimarginano quando ti dedichi a fare del bene a chi ha bisogno di te in questo momento, no? Davanti a te camminerà la giustizia, se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito, il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio, la tenebra diventerà come la luce del mezzogiorno che splende con il maggior quantitativo possibile di luce. Questa è la luce, questa è la bellezza, questo è il sapore, compiere questi gesti, queste scelte di giustizia, di bontà verso chiunque incroci la nostra esistenza. Bellissimo, buona domenica. 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 Bellissimo, buona domenica.